Benvenuti in questa nuova puntata di Cose a caso. Oggi parleremo dell'importanza dei contenitori. Come ci hanno spiegato quando eravamo alle elementari, se scaviamo in posti dove una volta viveva della gente, troviamo dei pezzi di robe fatti in maniera concava, in modo che dentro ci possano stare dei liquidi o degli oggetti. Fin dall'antichità dell'uomo sapiens preistorico era noto che se non c'hai un posto dove mettere le robe, poi le robe vanno dappertutto. E' per questo che l'uomo ingegnoso ha inventato la geometria. E l'uomo della preistoria si è accorto che alcune forme geometriche sono meglio di altre, perché quelle a tre dimensioni fanno in modo che se ci versi dentro dell'acqua, l'acqua non cade. E la puoi bere. La bottiglia, di fatti, è un esempio molto chiaro di contenitore ad uso e consumo dell'essere umano, non che sia qualcosa che è stato inventato dall'uomo che non serva all'uomo, forse anche uccidere le persone, drogarsi, fare i selfie. Fin dall'antichità e dalla sua prima venuta su questo pianeta, l'uomo ha avuto, subito, l'esigenza di nutrirsi e di setarsi. Per questo ha pensato bene di infilare del liquido acquoso che fa molto bene al nostro corpo, senza del qualo potremmo morire. Ci sono alcuni studi scientifici a riguardo. Perché avere l'acqua qua dentro è più facile che andare giù tre volte a prenderla nel pozzo, che poi il pozzo dov'è? Non c'è, adesso non c'è il pozzo. Bisogna andare al supermercato, però c'è il rubinetto, ma questa è un'altra storia. I contenitori si chiamano così perché contengono, da qui viene anche la parola contento, che vuol dire contenuto, cioè messo dentro, cioè va bene, va bene. Adesso vi farò vedere qualche esempio di questi va bene. Qui possiamo anche vedere un classico caso di riutilizzo virtuoso, perché questa Mix 60 Junior, probabilmente delle scarpe da bambina, che io uso per metterci dentro amenità. Cose a caso. Questo, per esempio, non è un contenitore, a meno che non ci mettiamo dentro un foglio, ma non possiamo definirlo un contenitore. Però un libro è un contenitore di idee, ma non è questo di quello di cui stiamo parlando oggi. Altro esempio di riuso è questa scatolina, che all'inizio è nata per non so cosa, sarebbe molto utile per metterci la droga, ma io lo uso per i plettri, perché la droga la metto in un altro posto. Un altro esempio di contenitore è questo, un tipico cestino da ufficio che ho preso all'IKEA e, vabbè, potrebbe essere anche uno scatolone o qualcos'altro, però è più bello parlare qua dentro. Questo coso qui contiene delle cose e se io, ad esempio, ho un foglio, lo butto via qua dentro e vedete? 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 Non cade. Per oggi è tutto.